Non vi dovete sentire sole e per quanto mi riguarda farò di tutto nel mio ruolo perché avvertiate vicine le istituzioni. È l'incoraggiamento della Presidente della Camera, Laura Boldrini, rivolto a Elisabetta Tripodi, Sindaco di Rosarno, e Maria Carmela Lanzetta, Sindaco di Monasterace, ricevute a Montecitorio insieme al Sindaco di Lamezia, Gianni Speranza. Le due amministratrici calabresi hanno illustrato a Laura Boldrini la difficile situazione di insulti, minacce, attentati, nella quale si trovano a operare in conseguenza della loro azione di contrasto all'Andrangheta. Sulla stessa lunghezza d'onda l'incontro avuto in precedenza da Laura Boldrini con i protagonisti di Trame, il Festival dei Libri sulle Mafie, in calendario dal 19 al 23 giugno 2013, alla Mezzia Terme, presentato in mattinata a Montecitorio. È il primo evento del genere in Italia che si propone di risvegliare le coscienze contro le mafie attraverso spettacoli, letture e incontri con autori coinvolti in prima persona nella lotta alle organizzazioni criminali, al sud come al nord. L'iniziativa è della Fondazione Trame, promossa dall'Associazione Antiracket di Lamezia Terme, con il sostegno del Comune e dell'Associazione Italiana Editori. Boldrini ha dato loro appuntamento per metà luglio, in occasione della visita che farà in Calabria.